ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio parliamo di qualche bel dischino oggi naturalmente vi ringrazio per essere sempre di più e per seguire questo mio meraviglioso canale andiamo a recensir blue rhythm combo i'm too old for all your changes no i'm too old to go through your changes sono troppo vecchio per diciamo adattarmi ai tutti i tuoi cambiamenti allora questo qua è un disco particolare disco funk che è all'opposto di quello della jam band disco music prodotta da pitt waterman qui siamo proprio nella roba afroamericana pesante scura disco funk con un minimo d'accenno di dark jazz veramente un disco particolare eccolo qua questo è l'originale e l'originale si distingue dalla ristampa ve lo dico aia ah no vieni qua questo che scappa perché nell'etichetta c'è questo dettagliuccio dell'arrangiatore che in entrambe le facciate riportato mentre la ristampa che non ho è effettivamente un disco diciamo che non riporta a un arancione più vivo di questo che è bello scuro nell'originale ed è praticamente non riporta la c'è solo side a e side b e non c'è ar by e col nome dell'arrangiatore in piccolo nell'angolino dello spazietto a destra allora questo è un disco fenomenale che io adesso lo suonerò nella mia serata disco funk a little portland street di cui ho già parlato in precedenza che sto facendo qua a londra in questo periodo e blu read un combo tra le cose quando ero stato a casa di next one c'era l'album il secondo album quello con la copertina blu di cui non mi ricordo il titolo che io non ho che lui lo possiede ma non lui non aveva il 45 io al 45 lui non ha l'album allora anche qua la stessa discorso di carla hall io questo già lo pagai di più lo pagai 200 sterline nel 2005 questo album e cosa è cosa qual è il prezzo di adesso di questo album vediamo cosa dice discogs il prezzo l'ultimo prezzo è stato pagato per questo disco al 3 giugno 2022 a 219 e 99 per cui non è aumentato di tanto perché io l'ho pagato 200 sterline nel 2005 però ha mantenuto tutto il suo valore ed è probabilmente molto ricercato per ciò che riguarda l'edizione originale perché ho il sospetto che l'edizione ristampa non suoni molto bene però se voi avete l'edizione ristampa e suona benissimo fatemelo sapere io ho l'originale perché io amo comprare gli originali qual è la tattica per comprare questi dischi e averli originali comprarli quando costano un po meno o quando hai qualche soldino in più ti compri quello che ti piace tanto che ti puoi permettere vedrai che col tempo mantiene il prezzo se non aumenta se si parla di appunto di questo genere qua poi adesso se voi mi parlate di rock psichedelico o di jazz allora lì il discorso può cambiare però diciamo nell'ambito diciamo meramente disco funk e soprattutto di gruppi indipendenti come questi che suonano così funky questo disco è veramente eccezionale suonabile in qualsiasi set di dance indipendente anche io venissi in italia a fare il party di next lo metto subito questo quando raggiungo un certo numero di bpm è abbastanza veloce e lo puoi proporre anche a un pubblico di disco che ascolti la disco indipendente a cui piacciono le cose scure te lo ballano questo come ballano guardian angel che è un altro album molto raro adesso che all'epoca pagai solo 70 sterline però comunque qua l'album ho detto l'ultimo venduto è il 3 giugno 2022 però a settembre ottobre 2022 non abbiamo copia in vendita ce l'hanno in sei lo vogliono in 53 quindi ragazzi io penso che la prossima copia non costerà 219 99 ma costerà a 3 400 pound almeno queste sono le mie previsioni poi magari ci sarà qualcuno che ha bisogno di venderlo tra questi sei che stanno su disco che magari lo vende anche a 250 non lo so se lo vende a 250 prendetelo subito se avete una collezione di originali se invece avete una buona collezione di ristampe prendetevi la ristampa però non ve la raccomando perché non so come suona poi volevo parlare di groovy hypnosis questa è una cosa del 2019 è un bellissimo ep dove ci stanno il pezzo magistrale groovy hypnosis che è un lavoro che ci sono voluti almeno quattro anni per 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 farlo come minimo dove ci sono più di 40 musicisti coinvolti penso che dovreste averlo perché se ascoltate groovy hypnosis anche se il pezzo non vi piace capirete l'immensità del progetto dove ci sono tutta una sezione fiati di 12 fiati c'è una sessione una sezione di violini ci sono quattro cantanti gospel due chitarristi due bassisti percussionisti io che avrò registrato almeno una ventina di diversi sintetizzatori che si alternano in contrapunto ai fiati allo slap dei bassisti e alle chitarre e poi c'è diciamo tutta una serie di parti e di groove che sono secondo me il top ci sono delle ottime recensioni per groove hypnosis di super paolo di nuovo guardate che copertina chi ha i siti coi gatti e i sintetizzatori dovrebbe assolutamente pubblicarmi perché questo è una copertina che già da sola vale la vendita del disco io sono veramente felice del grafico basilio che ha fatto questo assieme al disegnatore desiderio che hanno fatto questa bellissima copertina e spero di ingaggiarli per un prossimo progetto il prima possibile tony silvester pazuzu su mercury originale con la etichetta con la copertina mercury originale americana questo non costa un cazzo costa viene almeno l'edizione originale americana prima stampa che praticamente è vediamo un po l'etichetta ve la leggo leggiamo di qua la mercury 7 3 8 7 1 si è questa qua vedere su discogs 15 for sales 1 e 76 vediamo un po le condizioni condition allora ma sì sì c'è uno che lo vende dall'italia addirittura a 14 e 96 incluse le spese di spedizione fino in inghilterra poi vabbè ci avrò anche le tasse quindi in tutto 14 e 96 più tasse in italia questo è un pezzo molto conosciuto ed è stato importato io questo l'ho preso però all'estero non l'ho preso in italia perché lo suonava daniele baldelli lo suonavano rubens lo suonavano i dj cosmici all'epoca ne era duniaforo se voi ascoltate le cassettine di baldelli degli anni 70 trovate pazuzu ma anche nelle nelle cassette degli altri dj di gino grasso di di dell'ebreo di tutte queste cose qua c'è pazuzu e pazuzu è stato poi campionato stato preso e messo un po dappertutto è un pezzo splendido di disco un po osè perché c'è una tipa che finge un orgasmo in sottofondo ed è un pezzo che si suona adesso in una serata non di revival per carità ma in una serata di disco un po più seria fa il suo porco effetto perché il 45 giri suona molto bene anche perché è una produzione mercury a me piacciono molto le produzioni mercury sia degli lp che dei singoli degli anni 70 perché sia quelli della prima che sia quelli della parte prima della della seconda metà che quelle a parte finale come jimmy smith sito neat suonano benissimo proprio perché è un'etichetta chiave on budget poi c'era quincy jones come presidente da un certo periodo in poi c'è stato charles irland che ha fatto dei dischi splendidi su questa etichetta insomma ragazzi ascoltatevi questo pazuzu e magari prendetevelo ci sono delle ottime copie sia dalla francia che dall'italia quindi insomma a seconda di dove siete per pagare meno di spedizione avete qua un'ampia scelta e vedo che ci sono copie near mint appunto sui 10 14 pound io non è che recensisco solo roba costosa mi sono capitati questi perché oggi mi sono ripato questi con la mia bella schedona nuova della fogie symphony mark 2 e appunto va ascoltando perché non parlarne anche in tg vinile questo è un gran disco orchestrale dove ci sono arpe violini fiati le cose solo solo questo pezzo vale il 45 giri poi vabbè lui ovviamente è un arrangiatore da paura perché tony sylvester è il fondatore dei main ingredient che è un gruppo di soul che io adoro e ne parlerò poi in separata sede quindi si parla non solo di budget a livello di registrazione di mastering e di mixing ma si parla anche di contenuti e di arrangiamenti e di composizioni di una disco che non si fa più con orchestra enormi con tutto un organico e un budget che vabbè lasciamo perdere ed era questa era la dance music degli anni 70 è stata molto importante